La sua collaborazione con Berlusconi ha prodotto il massacro dei rifiuti, che si ricorda il mondo intero ancora oggi, tanto è vero il Corriere della Sera Nazionale l'altro giorno nel parlare della crisi dei rifiuti a Parigi per lo sciopero dei netturbini ha detto Parigi come Napoli ed era la Napoli di Bassolino, quindi io sono completamente alternativo al trasversalismo del sistema e della mala politica a Bassolino Berlusconi, tanto per capirci. Per il resto noi non siamo isolati, noi dialoghiamo con tutte le istituzioni, con la Regione stiamo dialogando col Presidente De Luca, ognuno con le proprie autonomie e le proprie sensibilità, ma c'è un dialogo istituzionale importante, collaboriamo in sede Anci, tanto collaboriamo che il Sindaco di Napoli è il delegato per la sicurezza e per la legalità a livello nazionale, abbiamo interlocuzioni costanti con tutte le articolazioni del Governo, però non ci manca l'autonomia e la rivendichiamo. Se qualcuno tenta di esercitare violenza istituzionale nei confronti della nostra città, non rispettarla, espropriandola come ha fatto il Presidente del Consiglio Cobbagnoli, noi non siamo supini, non facciamo parte del sistema, noi non abbiamo mollato, a differenza di altri che mollano, probabilmente perché non hanno nemmeno quel livello di autonomia che abbiamo noi. Chi ha messo la spina e chi ha staccato la spina a Roma è il Partito Democratico. Questa cosa non può accadere a Napoli fin quando io sarò un sindaco di Napoli, posso avere tutti i difetti, tutti i limiti, ma noi siamo autonomi e questa autonomia la rivendico molto in questo momento storico, quindi ben vengano queste critiche di Bassolino, di Casini, chi più ne ha più ne metta, quello è lo stesso sistema che ci critica perché noi siamo contro e fuori quel sistema.